Siamo partiti da qui, per arrivare a capire quello che è davvero importante. La prima cosa che dobbiamo chiederci è cosa vogliamo che sentano le persone. Per questo scegliamo i nostri prodotti con cura, perché ogni cosa che facciamo ci aiuti a dare ad ogni storia il giusto lieto fine.